Blitz antimafia tra Palermo e Trapani, in carcere la presunta rete che avrebbe favorito la latitanza di Matteo Messina Denaro, è stata l'operazione Golem. Sarebbe la rete che ha incastrato e nascosto il boss Matteo Messina Denaro e i suoi fiancheggiatori, che avrebbero favorito la latitanza di Diabolik, il nome d'arte di Messina Denaro. Ricercato da 16 anni, dal 2 giugno del 1993, per omicidi e stragi. 13 arresti della squadra mobile di Palermo e Trapani e dello SCO, il servizio centrale operativo della polizia. I mandati di cattura sono stati spiccati dalla tribunale di Palermo su richiesta del procuratore aggiunto Teresa Principato e dei sostituti della direzione distrettuale antimafia Paolo Guido, Roberto Scarpinato e Sara Micucci. È stata l'operazione Golem, dal nome dell'immaginario gigante, usato come servo, forte ed ubbidiente e quindi come favoreggiatore. Nel mirino i mandamenti mafiosi di Trapani e Castelvetrano. Tra gli arrestati vi è un cugino di Messina Denaro, Mario Messina Denaro, 57 anni, che avrebbe imposto il pagamento di tangenti agli imprenditori locali. Anche i boss detenuti alla 41b avrebbero comunicato con il latitante. Ecco perché la polizia, il DAP e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria hanno perquisito 15 carceri tra Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia, dove sono reclusi 37 trappanesi che sarebbero stati in contatto con gli indagati arrestati oggi. Tra i 37 anche Mariano Agate, 70 anni, capo del mandamento mafioso di Mazzara del Vallo, e Filippo Guttadauro, 58 anni, cognato di Messina Denaro e che sarebbe il numero 121 dei pizzini scritti a Provenzano. L'inchiesta ha anche sgominato un traffico di droga tra Roma e la provincia di Trapani, organizzato nell'interesse di Messina Denaro. E se Tommaso Buscetta è stato il boss dei due mondi, Matteo Messina Denaro lo è dei cinque continenti. Sì, perché l'inchiesta Golem avrebbe accertato che il capomafia di Castelvetrano è stato in Austria, Svizzera, Grecia, Spagna, Tunisia e Venezuela, dove avrebbe esportato e curato i propri affari usando documenti falsi che gli sarebbero stati forniti da un pregiudicato di Roma, Domenico Nardo, 50 anni, arrestato oggi. In manette anche il cosiddetto ambasciatore di Matteo Messina Denaro, che il boss avrebbe inviato sempre al posto suo agli incontri con i palermitani, come Salvatore Sandro Lopiccolo, forse ritenuti non all'altezza di incontrarlo personalmente. Si tratta di Franco Lupino, 53 anni, presunto capo del clan di Campobello di Mazzara, insieme a Leonardo Bonafede, 77 anni, anche lui arrestato. In carcere la moglie di Lupino, Lea Cataldo, 46 anni, che sarebbe stata impegnata con il marito in attività illecite, nell'ambito soprattutto dell'impiego dei fondi della regione. Ed infatti tra gli indagati a piede libero, che sono 18, vi è un funzionario della regione, Girolamo Coppola, accusato di avere pilotato favorito finanziamenti pubblici a società in odore di mafia. Avviso di garanzia anche per un ex maresciallo della Guardia di Finanza, Achille Felli, adesso in pensione, accusato di favoreggiamento aggravato da mafia. Il traffico di droga da Roma sarebbe stato gestito dagli stessi Domenico Nardo, Leonardo Bonafede e Franco Indelicato, 40 anni. Gli altri arrestati sono Vito Angelo Barruzza, 45 anni, Giuseppe Bonetto, 54 anni, Salvatore Dell'Aquila, 48 anni, Leonardo Ferrante, 54 anni, Giuseppe Indelicato, 36 anni, Aldo Lupino, 62 anni e Giovanni Salvatore Madonia, 44 anni. Grazie a tutti.